Ciao a tutti ragazzi, sono PetitTaper e bentornati in questo nuovo episodio di giorni d'estate Quest'oggi siamo ancora su Super Smash Bros. Legacy XP Insieme ancora ad Angelo ovviamente E sto registrando tutti Tutto bene? Cosa? Si è sentito un casino? E stiamo registrando tutti questi video di fila Quindi se ci sentite un po' stanchi dopo un po' di video per questo Yes Allora A proposito, yes! I will go with the Mario I will go with the Mario Wahoo! Let's go! E Battlefield normale Get away with the spam Yes Falcon Guarda che ho sentito quel falcon lì Non l'immagino Ecco perché su For Glory mi insultavano con i tag Quanto, quanto, quanto Mi sta bene Muore per le sue stesse mosse da spammone Quanto ti sta bene Eh no però Due stock così no eh Dai! No! Ti piace proprio Continuare a utilizzare quelle mosse lì? Guarda che secondo me ti fa più male che bene Perché siamo 4 a 1 Guarda che se perdi a 4 stock Ok no Sarebbe stato grave te lo dico Te lo dico Allora Gino Prince Specialist Castle Proprio così Calmati subito te lo dico Ok guarda ti sto distruggendo evita di spammare Quanto è buono Gino Ma Ciao Madonna See you next time Can ci son finito dentro Che giro di combo ti sto facendo Buoi! Oi! Oi! Fare tante altre cose belle No! Madonna Mi fa Tipo questa Tipo questa Tipo questa E chi? Mi sento a presso per il culo Che se vodid not use Captain Falcon yet Mi serve la mia medicina eh Kit de sac Questa mossa è a P tipo No Urko Khan Questa t'ho preso bene Ma l'altra parte Da questa? No! 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 Non da quella Cioè sì però no Se mi ammazza qui tipo Si? Com'è che è? No! Bravo Non fucking do that shit Whoops Did you just say Whoops Oh Dio Complimenti? Le mie complimentazioni Oh no! Do you know what time it is? What time it is? It's incubo time No? Yes! Aspetta ma sta roba non è quella del DS? Non fucking do that again Ti prego Non far uscire a 9 ti prego Ti prego Non darò un 7 Sì però No Questo è un 2 7 più 2 fa? Dimmi quanto fa 7 più 2 Non fa 3 7 più 2 fa esattamente 9 Questo era 5 Questo era 5 Mister Side E B Bravissio Non 1 però Che uno fa male a me fa This is spam comunque Cioè dipende Tutte le combo di game watch Si combano con la side b Per vedere se esce il 9 Quindi Ah Giustamente quando esce il 9 Non ti Ok Cosa? Fa male sta roba qua Non ha delle mosse bruttissime Mister game watch però Una roba che fa schifo di mister game watch È la grab Madonna Neanche tanto però Non mi piace Madonna Se mi usciva la 9 tipo No Oddio Ciao No Ok ora È l'ora di andare ad attacco smash No Si No Perché non è Ok Quindi fammi capire Tu sei volato via Non sei volato via Con un attacco smash C'è volato via io però Aia C'avevi 245 Saresti morto lo stesso Madonna Perché mi è fastidioso Sai che è fastidioso Però non è noiosissimo Da utilizzare È molto Molto a blocchi Non so come spiegare È molto Meccanico come personaggio Non è fluido Però è divertente La più divertente di mister game watch È proprio la side b Perché se tu fai Tipo Tutto schifo Per una partita E poi Decidito Andiamo solo di side b E ti esce il 9 Sai è una roba un po' bella Come adesso Che culo Che culo Non fare No Non la fai Ti prego No io ti voglio Voglio farti l'attacco smash Anche se hai 53 vita Però Non credo È stato impresario In star side b Bene ragazzi Direi che anche questo episodio Questo episodio di smash legacy È finito Spero ovviamente che vi sia piaciuto Se mi raccomando ragazzi Fatecelo sapere con un bel pollicione in su Per il supporto Come sempre Vi saluta anche Angelo Ci vediamo ai prossimi giorni d'estate Mi raccomando ragazzi Una buona giornata Una buona serata E ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao